benvenuti o bentornati sul mio canale io sono Silvia e in questo tutorial andremo a realizzare insieme passo passo questa borsa all'uncinetto cominceremo il nostro progetto partendo dalla lavorazione di un fondo ovale e proseguiremo poi con il corpo borsa dove andremo ad alternare un nuovo punto ad effetti intreccio ad una lavorazione a punto basso renderemo poi invisibile il passaggio tra le due lavorazioni utilizzando una tecnica di rifinitura e concluderemo il nostro progetto realizzando questi manici con una tecnica facile e veloce perfetta anche per principianti nella parte finale del video troverete consigli e suggerimenti per quanto riguarda un eventuale supporto da inserire all'interno del progetto chiusura e fodera e tutti i materiali che mi vedrete utilizzare in questo tutorial sono reperibili sul sito di tessiland è un progetto estremamente versatile se non desiderate un manico di questo tipo potete tranquillamente sostituirlo con una catena e un salvaspalla e utilizzare la vostra borsa non più come borsa a mano ma come borsa da portare a tracolla passiamo quindi a vedere insieme tutti i materiali di cui avremo bisogno e soprattutto ad uncinettare insieme la nostra borsa che se sarà di vostro gradimento vi invito a farmelo sapere con un bel pollice in su e un commento proprio qui sotto il video come base per la mia borsa ho scelto un fondo ovale color marrone in ecopelle misura 30 per 10 centimetri con già presenti i fori lungo tutto il perimetro all'interno dei quali andremo a lavorare con il nostro uncinetto come filato scelto il thai sublime di tessiland color nocciola vi lascerò indicato sullo schermo il numero esatto di rocche che andrò ad utilizzare la singola rocca pesa 200 grammi e ha una resa di circa 280 metri lavorabile con un uncinetto 3 oppure 4 lavorerò il tutto con un uncinetto numero 3 ricordate di adeguare il numero di uncinetto alla tipologia di filato che scegliete di utilizzare e ovviamente alla vostra mano di lavorazione realizzerò i manici della mia borsa utilizzando direttamente il filato e questi moschettoni ovali color oro che potete trovare sempre sul sito di tessiland in particolare questi moschettoni hanno una lunghezza di circa 66 millimetri e il diametro della campanella misura circa 13 millimetri per agganciare il manico con moschettone al corpo borsa andrò ad utilizzare quattro ponticelli misura 25 per 15 centimetri questo tipo di ponticello in particolare lo avevo in casa da un po di tempo e presenta quattro alette sul retro potete tranquillamente sostituirlo con il ponticello con placca 25 per 15 centimetri che trovate sul sito di tessiland che presenta solamente due alette sul retro cominciamo il nostro progetto partendo dalla lavorazione del fondo all'interno di tutti i fori presenti lungo il perimetro andremo a lavorare un certo numero di maglie basse e degli aumenti poiché potreste utilizzare un filato differente rispetto al mio o semplicemente avere una mano di lavorazione diversa potreste dover lavorare all'interno dei vari fori delle maglie differenti rispetto a quelle che mi vedrete realizzare all'interno del tutorial quando lavoriamo all'interno dei fori è importante calibrare correttamente il numero di maglie in modo che queste abbiano tutte lo stesso aspetto non devono infatti esservi maglie più strette oppure maglie più morbide per eseguire poi il punto di lavorazione che vedremo insieme all'interno del tutorial una volta completata la lavorazione del fondo è necessario avere come base un numero di maglie pari nel mio caso con questo numero di uncinetto e questa tipologia di filato andrò a lavorare due maglie basse all'interno di tutti i fori mentre nei quattro fori degli angoli andrò ad eseguire un aumento lavorerò tre maglie basse nei quattro fori degli angoli in particolare in questo foro in questo in questo e in questo ma vediamo ovviamente insieme tutti questi passaggi passo passo realizziamo un cappio con il nostro uncinetto e scegliamo un foro qualsiasi tra quelli presenti sul fondo esclusi ovviamente i fori negli angoli per praticità io scelgo sempre il foro centrale presente su uno dei due lati corti con l'uncinetto vado ad entrare all'interno del foro scelto in questo modo prendo il cappio realizzato in precedenza lo pongo sull'uncinetto e lo porto attraverso il foro prendo il filo e vado a bloccare il tutto abbiamo realizzato la prima parte del primo punto basso di questo foro la seconda parte quella superiore l'andremo a realizzare con la chiusura invisibile del giro poiché devo lavorare due maglie basse all'interno di ciascun foro fino ad arrivare all'angolo con l'uncinetto vado a rientrare nello stesso foro prendo il filo lo porto attraverso e lavoro un punto basso mi sposto poi nel foro successivo prendo il filo lo porto attraverso e lavoro una e due maglie basse all'interno dello stesso foro proseguo lavorando due maglie basse nei prossimi due fori disponibili arrivando così al foro presente nell'angolo l'aumento nell'angolo si compone di tre maglie basse lavorate nello stesso foro quindi come fatto nei fori precedenti entro all'interno del foro e vi lavoro 1 2 e 3 maglie basse questi sono tutti i passaggi che dovremo ripetere per il nostro fondo proseguirò ora lavorando due maglie basse in tutti i fori che mi si presentano fino ad arrivare al mio secondo angolo all'interno di questo foro lavorerò il mio aumento composto da tre maglie basse lavorerò poi due maglie basse in ciascun foro fino ad arrivare al mio terzo angolo in questo foro lavorerò il mio aumento di tre maglie basse continuerò con due maglie basse all'interno di ciascun foro fino ad arrivare al mio quarto e ultimo angolo dove lavorerò tre maglie basse all'interno dello stesso foro completerò la mia lavorazione eseguendo due maglie basse negli ultimi fori disponibili eseguiti tutti questi passaggi vediamo poi insieme come completare la lavorazione del nostro fondo con una chiusura invisibile ottenuto un risultato come questo e lavorate le ultime due maglie basse nell'ultimo foro disponibile per effettuare la chiusura invisibile allunghiamo l'asola sfiliamo l'uncinetto e tagliamo il filo sfiliamo la nostra asola e poniamo il filo su un ago alla nostra sinistra abbiamo la prima maglia che abbiamo lavorato quella con la quale ci siamo agganciati con il nuovo filo della quale dobbiamo completare la parte superiore e la prima maglia bassa completa che abbiamo lavorato con il nostro ago dobbiamo passare da dietro sotto ad entrambe le costine che compongono la prima maglia bassa completa e portiamo il filo con noi dopodiché torniamo indietro all'ultimo punto basso lavorato questa volta passiamo in mezzo tra le due costine che compongono il punto portando così il nostro filo sul retro nel nostro fondo abbiamo così completato la parte superiore del primo punto e chiuso la lavorazione del fondo in modo invisibile non ci resta che bloccare il filo sul retro del lavoro facendolo passare sotto le maglie appena lavorate passiamo quindi alla lavorazione del corpo borsa con il punto prescelto ma prima di questo eseguiremo due giri di preparazione scegliamo quindi una maglia qualsiasi tra quelle presenti sul fondo quale maglia è assolutamente indifferente vi anticipo già che con l'esecuzione di questo punto l'inizio e la fine del giro tenderà piano piano a spostarsi verso sinistra questo è assolutamente normale e dipende proprio da questo punto fatto quindi un nuovo cappio al nostro filo scegliamo una maglia qualsiasi e con il nostro uncinetto dobbiamo entrare nella maglia prendendo solamente la metà costina più lontana rispetto a noi la costa retro nel nostro punto entriamo quindi in costa retro in questo modo poniamo il filo sull'uncinetto e lo portiamo attraverso prendiamo il filo e blocchiamo ci spostiamo ora sulla maglia successiva entrandovi sempre in costa retro prendiamo il filo e lavoriamo un punto basso dobbiamo lavorare una maglia bassa in costa retro su ciascun punto di questo giro ci spostiamo quindi sopra ciascun punto e in costa retro vi lavoriamo una maglia bassa senza alcun aumento e proseguiamo in questo modo fino al termine del giro lavorata l'ultima maglia bassa in costa retro sull'ultimo punto disponibile andiamo a chiudere questo giro a sinistra abbiamo il primo punto con il quale ci siamo agganciati con un nuovo filo e sempre a sinistra la prima maglia bassa completa in costa retro che abbiamo lavorato con l'uncinetto entriamo sotto la prima maglia bassa completa prendiamo il filo e chiudiamo il tutto con un punto bassissimo la maglia bassissima è diventata la parte superiore del primo punto che abbiamo lavorato cominciamo ora un nuovo giro il secondo di preparazione per eseguire poi il punto prescelto con l'uncinetto dobbiamo rientrare nella stessa maglia dove abbiamo appena chiuso il tutto con un punto bassissimo quindi rientro nello stesso punto prendo il filo e lavoro un punto basso per questo giro devo lavorare una maglia bassa normale quindi prendendo entrambe le costine sopra ciascun punto che mi si presenta proseguo quindi lavorando una maglia bassa normale fino ad arrivare al termine nel mio giro un particolare molto importante l'ultimo punto basso di questo giro dovrà essere lavorato sopra la maglia bassissima con la quale abbiamo chiuso il giro precedente se non lavorassimo questo punto avremmo una maglia bassa in meno al termine del giro quindi lavoro un punto basso sopra il punto bassissimo e siamo pronti a cominciare la lavorazione del corpo borsa con il punto prescelto per aiutarvi nei prossimi passaggi vi consiglio di tenere sotto mano un marca punti dobbiamo saltare il primo punto che ci si presenta e andare su successivo su questo punto dobbiamo eseguire un punto canestro non andiamo quindi ad entrare qui sotto le costine del punto ma scendiamo alla sua base qui sotto entriamo con l'uncinetto prendiamo il filo e lo portiamo attraverso allunghiamo bene il punto e andiamo a chiudere come se volessimo realizzare un punto basso dobbiamo ora rientrare nella maglia bassa che abbiamo appena saltato quindi torniamo indietro su questo punto questa volta vi entriamo normalmente con l'uncinetto passando sotto ad entrambe le costine prendiamo il filo e lavoriamo un punto basso su questo punto che abbiamo appena lavorato andiamo a porre un marcatore poiché questo sarà il punto d'inizio e termine del nostro giro questi sono tutti passaggi che dovremmo ripetere per questo giro saltiamo il punto successivo andiamo nel seguente scendiamo alla sua base entriamo con l'uncinetto prendiamo il filo e allunghiamo carichiamo il filo e chiudiamo il tutto come se volessimo eseguire un punto basso dopodiché torniamo indietro alla maglia che abbiamo appena saltato giriamo l'uncinetto passiamo sotto la maglia normalmente prendiamo il filo e lavoriamo un punto basso rivediamolo ancora una volta saltiamo il punto punto successivo scendiamo alla sua base lavoriamo una sorta di punto canestro torniamo indietro al punto basso che abbiamo appena saltato prendiamo il filo e lavoriamo un punto basso procediamo in questo modo fino ad arrivare al termine del nostro giro lavorato il nostro ultimo incrocio dobbiamo andare a concludere questo giro sopra la maglia che avevamo segnato con il nostro marcatore rimosso il marcatore allunghiamo l'asola sfiliamo l'uncinetto ed entriamo da dietro nella maglia che avevamo segnato prendiamo l'asola e la poniamo sull'uncinetto e la portiamo sul retro del nostro lavoro come vi ho anticipato utilizzando questo punto la nostra apertura e chiusura giro si sposterà piano piano verso sinistra poiché ad ogni nuovo giro il primo punto che andremo a lavorare sarà qui sotto il primo incrocio presente alla nostra sinistra e non sotto l'incrocio sottostante questo è l'incrocio sul quale abbiamo concluso il nostro giro questo è l'incrocio successivo abbiamo il punto canestro e il punto basso lavorato nel punto che avevamo saltato proprio qui da dove esce il nostro punto basso che forma questa linea in orizzontale dobbiamo entrare con l'uncinetto proprio in questo punto per fare questo allunghiamo leggermente la nostra asola sfiliamo l'uncinetto ed entriamo proprio in questo punto in questo modo e dobbiamo recuperare l'asola che avevamo lasciato sul retro del lavoro quindi pieghiamo l'uncinetto e rientriamo dentro la nostra asola dobbiamo ora prendere il filo e farlo passare attraverso l'asola e attraverso il punto perciò lo carichiamo sull'uncinetto e lo portiamo attraverso questi due punti dopodiché tiriamo sul punto verso l'alto come se volessimo realizzare un punto canestro prendiamo il filo e blocchiamo il tutto dopodiché ci spostiamo qui sulla prima maglia che ci si presenta alla nostra destra vi entriamo e lavoriamo un punto basso realizzando così il primo incrocio di questo giro su questa maglia che abbiamo appena lavorato andiamo a porre nuovamente il marca punti davanti a noi abbiamo ora due incroci 1 e 2 il prossimo punto dobbiamo andare a lavorarlo proprio qui sul secondo incrocio da dove esce la maglia bassa che viene lavorata nel punto precedente questo è il punto canestro questo è il punto basso e questo è il punto nel quale dobbiamo entrare portiamo fuori il filo lavoriamo questa sorta di punto canestro e come avete notato abbiamo saltato un punto nel punto subito qui a destra entriamo normalmente e lavoriamo un punto basso dobbiamo sempre saltare un punto di base e nel successivo lavorare il punto canestro il punto canestro sarà sempre qui dove nasce la maglia bassa che abbiamo lavorato nel giro precedente quindi saltiamo questo punto scendiamo qui portiamo fuori il filo lavoriamo il punto canestro torniamo indietro al punto che avevamo saltato e vi lavoriamo un punto basso e proseguiamo in questo modo per tutto il nostro giro i passaggi per concludere questo giro sono gli stessi che abbiamo visto nel giro precedente ma li rivediamo velocemente insieme allunghiamo l'asola sfiliamo l'uncinetto e dobbiamo entrare da dietro sulla maglia segnata col marcatore in questo modo prendiamo l'asola e la poniamo sull'uncinetto e la portiamo sul retro nel nostro lavoro dopodiché sfiliamo l'uncinetto e guardiamo i punti qui alla nostra sinistra qui è dove abbiamo portato l'asola sul retro del lavoro e questo è il primo incrocio che ci si presenta a sinistra questa è la maglia bassa dell'incrocio che abbiamo lavorato nel giro precedente qui alla base della maglia bassa dobbiamo entrare con l'uncinetto in questo modo recuperiamo l'asola prendiamo il filo e dobbiamo farlo passare attraverso l'asola e attraverso il punto in questo modo blocchiamo il tutto e torniamo qui indietro su questo punto che di fatto abbiamo appena saltato vi entriamo con l'uncinetto prendiamo il filo e lavoriamo un punto basso su questo punto andiamo a rimettere il nostro marcatore saltiamo un punto andiamo nel successivo qui abbiamo il punto dal quale nasce la maglia bassa del giro precedente entriamo qui con l'uncinetto lavoriamo il punto canestro torniamo indietro sulla maglia appena saltata e lavoriamo un punto basso e otterremo questo risultato al termine del giro ripeteremo esattamente gli stessi passaggi per la chiusura che abbiamo appena visto insieme e cominceremo un nuovo giro esattamente allo stesso modo questo punto si definisce sempre di più man mano che continuiamo con la nostra lavorazione e come vi avevo anticipato la mia chiusura del giro si sta spostando piano piano verso sinistra poiché cominciamo un nuovo giro sempre nell'intreccio successivo rispetto a quello con il quale andiamo a chiudere ciascun giro non ci resta quindi che ripetere tutti i passaggi che abbiamo visto insieme giro dopo giro fino ad ottenere un corpo borsa come questo ho lavorato con questo punto fino a raggiungere un'altezza di circa 22 centimetri vediamo quindi come completare questa parte della lavorazione e proseguire con la parte alta della nostra borsa al termine del giro abbiamo sempre davanti a noi la maglia assegnata col nostro marcatore rimuoviamo il marcatore allunghiamo la nostra asola sfiliamo l'uncinetto ed entriamo da dietro sotto alle due asole che compongono la maglia che avevamo segnato col marcatore poniamo l'asola sull'uncinetto e la portiamo sul retro nel nostro lavoro la parte superiore del nostro progetto sarà realizzata a punto basso per eseguire il primo punto del giro sfiliamo il nostro uncinetto e qui sotto di noi abbiamo l'asola che abbiamo appena portato sul retro del lavoro questi sono i due fili che la compongono con l'uncinetto dobbiamo passare sotto a questi due fili teniamo quindi ferma la nostra asola passiamo sotto ad entrambi i fili e prendiamo il filo proveniente dalla rocca e lo portiamo attraverso creando così una nuova asola recuperiamo l'asola che avevamo lasciato sul retro nel nostro lavoro prendiamo il filo e andiamo a chiudere insieme i nostri due punti ci spostiamo ora nel punto successivo vi entriamo con l'uncinetto e vi lavoriamo un punto basso per tutto questo giro dobbiamo lavorare una maglia bassa singola su ciascun punto che ci si presenta senza saltare alcuna maglia proseguiamo quindi lavorando una maglia bassa su ciascun punto fino ad arrivare al termine del nostro giro i passaggi per la chiusura invisibile di questo giro sono quelli che dovremo poi ripetere per tutti i giri successivi lavorata l'ultima maglia bassa nell'ultimo punto disponibile allunghiamo l'asola e sfiliamo l'uncinetto abbiamo il punto con il quale abbiamo cominciato questo nuovo giro al quale manca la parte superiore e accanto il primo punto basso completo che abbiamo lavorato con l'uncinetto entriamo da dietro sotto a questo primo punto basso completo in questo modo prendiamo l'asola e la poniamo sull'uncinetto e la portiamo sul retro del nostro lavoro sfiliamo nuovamente l'uncinetto tenendo ferma quest'asola con l'uncinetto dobbiamo passare sotto a questi due fidi quelli che abbiamo appena portato sul retro prendiamo il filo lo portiamo attraverso creando così una nuova asola recuperiamo quella lasciata sul retro prendiamo il filo e chiudiamo il punto dobbiamo proseguire lavorando una maglia bassa su ciascun punto senza aumenti e senza diminuzioni fino ad arrivare al termine del giro dove per la chiusura ripeteremo esattamente gli stessi passaggi che abbiamo appena visto insieme dobbiamo proseguire lavorando una maglia bassa su ciascun punto giro dopo giro con relativa chiusura fino ad ottenere una lavorazione a punto basso alta circa 5 centimetri in particolare ho ottenuto questa misura lavorando a punto basso per 7 giri in particolare questa parte della nostra borsa dovrà essere abbastanza alta da poter ospitare comodamente i nostri ponticelli per l'attacco dei nostri manici concludiamo la lavorazione del corpo borsa eseguendo una chiusura invisibile questa volta utilizzando un ago allunghiamo l'asola sfiliamo l'uncinetto e tagliamo il filo sfiliamo e poniamo su un ago come per la lavorazione all'uncinetto andiamo a sinistra sul primo punto basso completo lavorato passiamo da dietro sotto ad entrambe le costine e portiamo il filo con noi torniamo poi indietro a destra sull'ultimo punto basso lavorato non passiamo sotto ad entrambe le costine ma vi passiamo esattamente nel mezzo in questo modo e portiamo il filo con noi dopodiché non ci resta che bloccare il filo all'interno del lavoro la nostra borsa ha raggiunto un'altezza complessiva di circa 27 cm andiamo a completare la lavorazione del corpo eseguendo un giro di rifinitura che andremo ad eseguire qui nel punto dove avviene il cambio di lavorazione realizziamo un nuovo cappio con un nuovo filo e con l'uncinetto andiamo ad entrare qui alla base di una delle maglie basse che abbiamo eseguito al cambio di lavorazione entriamo nel punto poniamo il cappio sull'uncinetto e lo portiamo attraverso ci spostiamo poi alla base nel punto basso successivo vi entriamo prendiamo il filo lo portiamo attraverso e andiamo a chiudere il punto come se volessimo eseguire un punto bassissimo ci spostiamo sotto il punto basso successivo prendiamo il filo punto bassissimo proseguiamo in questo modo lavorando una sorta di punto bassissimo o punto catenella alla base di tutte le maglie basse che ci si presentano fino ad arrivare al termine del nostro giro andiamo ad eseguire una chiusura invisibile sempre utilizzando l'ago sfiliamo l'uncinetto tagliamo il filo e sfiliamo l'asola poniamo il filo su un ago e andiamo qui sul primo punto bassissimo o punto catenella che abbiamo lavorato vedete che abbiamo la prima e la seconda costina che compongono il punto con il filo dobbiamo passare sotto alle due costine che compongono il punto in questo modo e torniamo indietro all'ultimo punto lavorato dobbiamo passare nel mezzo così da creare un finto punto catenella passiamo in mezzo tra le due costine e anche attraverso il corpo borsa portando così il filo all'interno del nostro progetto questo sarà il risultato che andremo ad ottenere non ci resta che bloccare il filo all'interno del lavoro avrete visto che nel corso della mia lavorazione non ho inserito alcun supporto all'interno della mia borsa grazie alla tipologia di punto che ho scelto di utilizzare e alla mia mano di lavorazione il mio corpo borsa rimane praticamente in piedi da solo ma non perfettamente rigido e questo va incontro a quelli che sono i miei gusti per questo tipo di progetto ma voi ovviamente potreste desiderare un corpo borsa molto più rigido in questo caso potete andare ad inserire un supporto interno vi segnalo per questo due tutorial che trovate già disponibili qui sul mio canale se volete inserire della rete a supporto del progetto vi consiglio il mio tutorial della borsa romantica se invece volete inserire un materiale ancora più resistente ad esempio la salpa trovate le spiegazioni per creare un cilindro a supporto all'interno sempre del mio video tutorial dedicato alla mini shopper all'uncinetto se decidete di applicare un supporto interno alla borsa vi consiglio poi di inserire tutti gli elementi aggiuntivi ad esempio i ponticelli in metallo facendoli passare anche attraverso il supporto in questo modo tutte queste parti avranno un maggior sostegno per quanto riguarda invece la fodera essendo la nostra borsa un modello molto basic vi consiglio una fodera altrettanto semplice in questo caso una fodera a sacchetto che viene realizzata direttamente sulle misure che prenderete voi sul vostro progetto come prendere correttamente le misure e realizzare poi la fodera lo trovate spiegato passo passo in due miei video tutorial quello della mini shopper del quale vi ho parlato poco fa riferendomi alla salpa e nel video tutorial o meglio nella guida alla progettazione della borsa all'uncinetto entrambi i video già disponibili proprio qui sul mio canale passiamo quindi a vedere insieme come agganciare i ponticelli al nostro corpo borsa e soprattutto come realizzare i nostri manici i ponticelli andranno posizionati a coppie sui due lati lunghi del nostro progetto in particolare su entrambi i lati dovranno avere la stessa altezza e la stessa distanza dal bordo superiore in particolare ho posizionato i miei ponticelli al centro della lavorazione a punto basso e tra un ponticello e l'altro c'è una distanza di circa 10,5 cm per inserire il ponticello lo facciamo semplicemente passare attraverso la lavorazione all'uncinetto nella confezione sono poi incluse queste placchette di sicurezza le inseriamo e pieghiamo le alette se le placchette risultassero troppo lunghe potete tranquillamente tagliarle utilizzando delle forbici per il manico di questa borsa ho calcolato dal centro del primo ponticello al centro del secondo ponticello circa 16 cm e la parte interna di ciascuna campanella misura circa 2 cm per ottenere quindi un manico morbido ai 16 cm che ho calcolato ho aggiunto 4 cm in più così da creare anche un pochettino di piega ho aggiunto poi 2 cm per la parte interna del primo attacco e 2 cm per la parte interna del secondo attacco come capire quindi quante catenelle servono per ottenere una certa misura in centimetri? l'unico metodo sicuro è fare un piccolo campione avviate un certo numero di catenelle ed eseguite qualche giro di lavorazione a punto basso lo vedremo ovviamente insieme tra poco dopodiché misurate quanti centimetri avete ottenuto con quel numero di catenelle dopodiché fate la proporzione per ottenere il mio manico vado ad avviare 45 catenelle lavorata la mia ultima catenella la numero 45 vado ad aggiungere una catenella in più questa catenella aggiuntiva è una catenella di supporto partendo dall'uncinetto dobbiamo ora tornare indietro di due catenelle una e due vado a rientrare in quella che per me era la catenella numero 45 vi entro all'interno prendo il filo e lavoro un punto basso mi sposto nella catenella successiva e anche qui vi lavoro un punto basso proseguo lavorando una maglia bassa in ciascuna catenella che mi si presenta fino ad arrivare al termine del mio giro lavorata un'ultima maglia bassa nell'ultima catenella disponibile abbiamo completato il nostro primo giro cominciamo il secondo giro realizzando una catenella e voltando il lavoro questa catenella è di supporto non va a sostituire alcun punto il primo punto del nostro giro corrisponderà all'ultima maglia bassa che abbiamo lavorato nel giro precedente entriamo quindi in questo punto e vi lavoriamo un punto basso ci spostiamo poi sul punto successivo dove anche qui lavoriamo un punto basso proseguiamo lavorando una maglia bassa su ciascun punto che ci si presenta fino ad arrivare al termine del nostro giro poiché non lavoriamo né aumenti né diminuzioni se abbiamo lavorato correttamente al termine di ciascun giro avremo sempre lo stesso numero di punti bassi avendo avviato 45 catenelle poiché la catenella in più non viene contata al termine di ciascun giro avrò sempre 45 punti bassi in questo momento dopo due giri di lavorazione il mio pannello all'uncinetto ha un'altezza di circa 1,5 cm se utilizzate ad esempio un filato più spesso e con un numero di uncinetto più grande potreste ottenere un risultato differente di misura maggiore perché è importante sottolineare questo aspetto perché in base al numero di giri di lavorazione che andremo ad eseguire otterremo uno spessore diverso per il nostro manico per proseguire nei prossimi giri non dobbiamo far altro che realizzare una catenella di supporto voltare il lavoro e partendo dal primo punto disponibile lavorare una maglia bassa su ciascun punto che ci si presenta fino ad arrivare al termine del giro avendo già eseguito un primo manico con questa tipologia di filato so che per riempire tutto lo spazio del mio attacco in metallo dovrò eseguire almeno 5 giri di lavorazione in questo momento ne ho eseguiti 3 devo quindi ripetere i passaggi che abbiamo visto insieme ancora per due giri facendo una catenella voltando il lavoro ed eseguendo una maglia bassa su ciascun punto completati i 5 giri a punto basso una catenella e voltiamo il lavoro dobbiamo prendere la parte inferiore del pannello quella dove abbiamo lavorato le catenelle iniziali e piegarla verso l'alto in questo modo andremo a cucire insieme le due parti del nostro pannello passando contemporaneamente attraverso le due costine dei punti che si presentano sul davanti e la catenella corrispondente dall'altro lato del pannello entriamo con l'uncinetto nel primo punto che ci si presenta passando sotto ad entrambe le costine ed entriamo all'interno della prima catenella dall'altro lato del pannello prendiamo il filo e lo facciamo passare attraverso la catenella e attraverso il punto in questo modo abbiamo due asole sull'uncinetto chiudiamo la prima con la seconda come se volessimo eseguire un punto bassissimo passiamo al punto successivo passiamo sotto ad entrambe le costine che compongono il punto e sulla catenella successiva dall'altro lato del pannello prendiamo il filo lo portiamo attraverso e chiudiamo come se volessimo eseguire un punto bassissimo punto successivo catenella successiva dall'altra parte prendiamo il filo passiamo attraverso e chiudiamo proseguiamo lavorando in questo modo per tutti i punti disponibili lavorato l'ultimo punto insieme all'ultima catenella non ci resta che tagliare il filo sfilare l'uncinetto e sfilare la nostra asola utilizzando un ago vado a bloccare il mio filo facendolo passare da una parte e dall'altra del pannello utilizzando l'ago lo faccio passare all'interno del manico stesso dopodiché taglio il filo in eccesso non ci resta che inserirne le due estremità all'interno dei terminali in metallo oltre a fissare il tutto con le viti in dotazione vi consiglio di aggiungere una goccia di colla per tessuti all'interno del terminale io solitamente utilizzo questa della gutterman inserisco la colla al centro del terminale inserisco il manico facendo attenzione a spingere la lavorazione all'uncinetto fino in fondo dopodiché aiutandomi con un cacciavite vado ad inserire le viti all'interno dei fori le viti devono ovviamente passare all'interno della lavorazione all'uncinetto una volta inserite le quattro viti il nostro manico è pronto per essere utilizzato una volta agganciati i miei manici al corpo borsa il mio progetto è completato per quanto riguarda la chiusura ci sono diverse opzioni non avendo inserito alcun supporto interno alla mia borsa nel momento in cui la prendo tramite il manico le due parti fronte e retro vanno a toccarsi quindi potrei mettere ad esempio un semplice bottone automatico oppure potrei inserire una zip andando a creare due spallette alle quali cucirla se decidete di inserire all'interno della borsa il supporto in rete oppure in salpa vi consiglio per la chiusura di utilizzare una zip per la chiusura un'ulteriore opzione potrebbe essere quella di creare un mini pannellino rettangolare da cucire sul retro portare sul davanti della borsa al quale all'estremità aggiungere ad esempio un bottone automatico siamo così arrivati al termine di questo nuovo progetto borsa che io spero sia stato per voi un buon spunto creativo possibili variazioni di questo progetto se non desideriamo un manico a mano come questo possiamo sfruttare i ponticelli per agganciare una catena con un salvaspalla e trasformare così la nostra borsa in una shopper da portare in spalla abbiamo poi visto questo nuovo punto che possiamo poi ovviamente applicare a tantissimi altri progetti vi ricordo che tutti i materiali che ho utilizzato in questo video li potete trovare sul sito di Tessiland e se siete poi alla ricerca di altri tutorial borsa spiegati passo passo li trovate in una playlist dedicata proprio qui sul mio canale youtube dove se ancora non l'avete fatto e ovviamente se ne avete piacere vi invito ad iscrivervi perciò con la mia nuova borsa vi saluto vi auguro come sempre buona creatività spero di vedervi su tutti i miei profili social che trovate nel box informazioni sotto il video e ovviamente spero di rivedervi in un prossimo video sempre qui sul mio canale youtube a presto a presto a presto a presto